ciao ragazzi finalmente siamo tornati anche con i blog ne lo facciamo oggi è la festa del papà grazie siamo felici di tornare anche con questi video ci siete mancati abbiamo avuto un periodo stra intenso molto molto da fare e quindi oggi allora parte il fatto che mi hanno fatto un sacco di regali i miei bimbi ho detto che per festeggiare il meglio questa giornata faremo quello che vogliono loro è sul desiderio quasi presso il desiderio di andare in moto e quindi oggi faremo un po di attività che piacciono a loro allora ci riprendiamo un impegno ci piacerebbe tanto ragazzi riuscire a portare un video a settimana ci impegneremo al massimo ci impegneremo al massimo per farlo oltre ai video brevi insomma che quelli continuiamo a pubblicarli ma dai faremo il possibile per farcela intanto vi ringraziamo per tutto l'affetto che ci arriva ogni giorno e siamo cresciti tantissimo siamo più di 60.000 ormai cioè non ci sembra vero avanti tutta grazie a tutti adesso ci carichiamo incinturiamo e partiamo yes il tuo passo riconosco da lontano ti corro incontro e ti prendo per mano viene papà stammi vicino con te è più facile il mio cammino sarà il mio esempio e la mia compagnia e la tua incontra sul mio cuore che non andrà più via grazie scusa bene grazie amore bellissimo io ti convite in via come ora levi tu cosa hai portato al papà cosa hai portato al papà tu il devoto questo è il tuo regalo la vita mamma mia che bellezza che bello anche i regali ragazzi poi ho anche la pazzia eh sì tizio sei arrampicata arrampicata su babbo sì arrampicata su un po' così mamma mia che bello gli amo guarda wow 19 marzo 2022 feste del papà questo regalo papà voglio donarti e nello stesso tempo voglio anche ringraziarti per la vita che quella mamma mi hai dato e i preziosi doni che fino ad oggi mi ha insegnato mi ha insegnato grazie che bella mi fa piangere aspetta perché Iago ha anche una poesia da dirti vero Iago? sei matto? veramente? beh allora adesso mi metto comodo e lo ascolto un papà da mare ascolta mi papà scopri con me che al mondo un amico più caro non c'è nel giorno della tua festa ho tanti pensieri nella testa lo sai non conosco il parodoro vivo di semplici emozioni ma ti dico che è bello stare accanto quando disegno ballo e canto adoro il tuo profumo di bosco anche a distanza lo riconosco mi piace fare con te le capriole quando giochiamo nei prati al sole ascoltami non hai nessun difetto e te lo dico un grande affetto non voglio un papà esemplare sono felice di avere un papà da mare wow bravissimo bravo ragazzi grazie di cuore prego prego non vi dovete disturbare sapete che a me basta stare con voi questo è il regalo più grande è un mio ma c'è qua c'è ciao made in Italy profumo del legno prodotti emozionali made in Italy che bello ma guarda qui aspetta il miglior papà del mondo wow che bello questo qua me lo attacco sopra al letto di fianco grazie bambini tutti i miei aia ti voglio bene insomma adesso comincia la festa allora per la mente del papà diciamo che decidete voi come fate già va bene bambino fa danni bambino fa danni bambino fa danni levi hai già mangiato sai sai che hai già mangiato quello lì è il riso che ha avanzato noa vero noa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sono sempre un po' con il piatto sospeso quando li vedo andare in moto ecco il mato no vabbè no non bisogna guardarlo perché deve far venire del tutto catenato spericolato ehi voglio andare piano guarda che stai andando troppo veloce adesso qui piano grazie a tutti un portento, sei bravissimo, un fenomeno, stabile, tranquillo, molto bene. Bravissimo, sei spericolato, sei un po' spericolato, però bravo. Ragazzi, ora noi brindiamo, poi facciamo una cenetta a base di sushi, poi Giulia mi ha appreso dei dolcetti che non vedo l'ora di assaggiare. E basta, quindi ci vediamo a breve, speriamo che questo video vi sia piaciuto, come sempre se vi va lasciateci un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ciao! Aspetta ragazzi, un po' di wasabi, vai, non di più, ciao, naso, tutto a posto. Ciao!